Sul 58 denunce di scomparsa, 21 le persone che sono state ritrovate, 37 invece risultano irreperibili. Questi dati forniti da Prefettura e Protezione Civile nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo di Governo e l'ambito della giornata nazionale degli scomparsi. Un'iniziativa che ha coinvolto gli alunni delle scuole superiori, una platea dei giovani già protagonisti della serie di eventi organizzati per illustrare modalità e ruoli di informazione, istituzioni e forze dell'ordine. L'importanza di fare rete tra le forze dell'ordine, vigili del fuoco, astra, soccorso alpino e speleologico dopo la denuncia. Una task force che negli ultimi anni si è particolarmente rafforzata anche a livello tecnologico. L'appello ai cittadini è quello di denunciare tempestivamente i casi sospetti per consentire alle forze in campo di recuperare tempo utile per allestire campo bassi e dare così impulso alle operazioni di ricerca. A tal proposito sono state proiettate nel salone di Palazzo di Governo le immagini di alcune esercitazioni e simulazioni eseguite da vigili del fuoco per spiegare ai presenti le modalità di intervento, soprattutto nelle aree più impervie della provincia. Sul numero degli scompassi in Irpina, comunque significativo, pesa l'allontanamento da centri e case di famiglia degli stranieri. Preoccupa soprattutto il dato dei minori che dopo un periodo di permanenza presso le strutture di accoglienza sul nostro territorio diventano invisibili. Anche nella nostra provincia l'identikit delle persone scompasse segue il profilo nazionale a far prendere le proprie tracce, soprattutto gli anziani con deficit cognitivi e soggetti fragili. Sullo sfondo della giornata dedicata agli scompassi giunge il grido di dolore della famiglia Manso. Il prossimo 8 gennaio saranno tre gli anni trascorsi senza Mimì. I cari del 71enne Manovale di Prata rilanciano l'appelo, sempre più disperato, sul caso della misteriosa sparizione. C'è l'inchiesta della Procura della Repubblica. L'avvocato della famiglia Manso, Federica Renna, invita gli inquirenti a non abbassare la guardia sulla vicenda, anche per evitare il rischio dell'archiviazione. Certo, come avete detto stesso voi, siamo quasi a tre anni dalla scomparsa di Mimì. Da parte dei familiari c'è molto dispiacere sul fatto che non abbiamo una vera e propria pista da seguire. Anzi, come legale di Romina Manso, quindi dei figli di Mimì Manso, il dispiacere più grande è vedere che ad oggi la figlia continua ad essere indagata e quindi comunque ha questo fardello che rende la situazione ancora più angosciante.